Team, il presidente Bozzelli con i contratti di solidarizzazione salvati sei posti di lavoro e ridotti costi. Atria, la casa di riposo Ricci Conti, a rischio il lavoro di otto addetti, i sindacati, solo 15 lavoratori non bastano. Teramo, prove generali del mercato del sabato senza i furgoni. Spettacolo parte stasera con la lirica, la nuova gestione Solti del Cineteatro Comunale di Teramo. Sport Calcio, Vivarini e il suo staff salutano su Facebook società, tifosi e città, riconoscenti per l'accoglienza avuta. Sport Basket, la Meta Teramo sfida Pozzuoli per l'ultima diandata dei play-off nazionali davanti a Mario Boni. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. I contratti di solidarietà, sebbene a termine, consentiranno nell'immediato di salvare sei posti di lavoro e al tempo stesso produrranno anche una riduzione dei costi. Lo ha detto il presidente della Teramo Ambiente, Pietro Bozzelli. I nostri tecnici, ha aggiunto il presidente della Teramo, ci hanno assicurato che la qualità del servizio non subirà nessuna ripercussione negativa. L'intervista. Per la Teramo cosa significano questi contratti di solidarietà? Innanzitutto la cosa importante è che noi avremo temporaneamente, ovviamente perché i contratti di solidarietà sono a termine, un anno, due anni a secondo dei casi, avremo una riduzione dei costi. Questo è molto importante. Nel contempo, in questo modo, noi otteniamo il risultato che gli esuberi fra il personale e dei servizi generali praticamente non ci sono più. Ma si salvano dei posti di lavoro? Sì, almeno sei posti di lavoro. I sindacati temono però che questa situazione si possa ripercuotere in maniera negativa sulla qualità del servizio offerto. Noi abbiamo chiesto ai nostri tecnici se effettivamente la quantità di ore di contratto di solidarietà fosse compatibile con un servizio efficiente. I tecnici chiaramente ci hanno confermato che ciò sia possibile e quindi io mi devo affidare al giudizio degli esperti. Ricordiamo che i contratti di solidarietà sono stati accolti dagli operai della Team qualche giorno fa in un incontro alla CGL. Gli impiegati, gli amministrativi sono in solidarietà già da tempo? Sì, sì. Ma in effetti l'anno scorso si era parlato anche di mettere in solidarietà tutti. Poi fu deciso, in base all'accordo, di mantenere solo gli impiegati. Nella fabbrica dove io lavoro in solidarietà ci stanno tutti. Non c'è una divisione fra reparto e reparto. Può esserci una divisione fra sito produttivo e sito produttivo. Come per esempio qui da noi perché Termoli chiaramente non sta in contratto di solidarietà né i servizi dei comuni esterni. Evitati gli esuberi alla Team grazie ai contratti di solidarietà ma resta aperto il problema degli addetti al servizio di pulizia. Per marcattili della CGL la politica e la Team se ne devono occupare e anche in fretta il servizio. Con l'applicazione dei contratti di solidarietà alla Team, la Teramo Ambiente e la relativa riduzione di orari e stipendi si sono evitati gli esuberi. Ma i sindacati portano l'attenzione anche il caso dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pulizie. Sono 28. 8 di loro si occupano della pulizia del Tribunale. Per loro dovrebbe esserci una proroga dal 30 giugno. Per altri 20 invece Team e Comune dovrebbero fare qualcosa per i sindacati ma non arrivano segnali positivi. Noi abbiamo ancora il problema dei 28 lavoratori e lavoratrici della pulizia che 8 molto probabilmente il 30 giugno quelli che puliscono il Tribunale avranno la proroga. Però per gli altri 20 non abbiamo avuto risposte positive né da parte della Team né da parte del Comune, anzi il Comune nell'ultimo incontro che facevamo con il Sindaco la settimana scorsa disse che non c'era un centesimo e io credo che questo problema, tenendo conto che a queste lavoratrici scade la Cassa di Direzione straordinaria il 22 di giugno, la politica e la Team deve tenere conto. Noi fino all'ultimo secondo proveremo a cercare delle soluzioni. Però è chiaro che sia il Comune di Teramo che la Team devono tenere conto che questi sono lavoratrici che da anni lavoravano con la Team e non possono essere buttati in strada così. Questa mattina il nostro direttore Roberto Almonti ha avuto un incidente stradale a bordo della sua moto. Diciamo subito che Roberto sta bene, è stato trasportato al Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso ma ha riportato fortunatamente solo lievi fratture. L'incidente è avvenuto nei pressi di Piazza San Francesco. è stato dimesso nel pomeriggio di oggi. A Roberto ovviamente va il nostro abbraccio e siamo sicuri di rivederci prestissimo in redazione. Prosegue il ricollocamento in Regione dei lavoratori impiegati nelle quattro province alla luce della riforma del Rio. Il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli invita i dipendenti a scegliere anche altri enti presso cui essere ricollocati per snellire le procedure ed evitare che il personale debba trovare impiego fuori dall'Abruzzo. Il servizio. Sono 160 i lavoratori finora transitati dalle quattro province abruzzesi alla Regione Abruzzo. Lo comunica il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli incaricato di curare il passaggio tecnico e amministrativo del personale provinciale alla luce della riforma del Rio. Di questi 104 è personale legato a funzioni non fondamentali quali l'agricoltura. 46 unità invece hanno competenza in materia di ambiente, energia, sviluppo economico. Il lavoro svolto fin qui, ha spiegato il vicepresidente Lolli, rimane coerente e in linea con quanto da noi affermato sin dall'inizio di questo complicato percorso, cioè quello di evitare che nessuno vada fuori dall'Abruzzo cercando di riassorbire tutto il personale dalle province ad eccezione di chi, in presenza di altre opportunità, decidesse di andare via. In questo senso, l'ultimo incontro con i presidenti delle province ha voluto fare il punto dello stato di ricollocamento del personale delle province. Restano ancora altre funzioni, quali caccia e pesca, biblioteche, urbanistica e spropri, polizia provinciale, per un restante numero di 146 unità. La cui ricollocazione, ha sottolineato Lolli, richiede ancora uno sforzo economico che la Regione al momento non riesce a soddisfare. Da qui, l'appello del vicepresidente della Giunta regionale per evitare che qualche lavoratore resti fuori dai meccanismi di ricollocamento. Per completare al meglio il percorso di ricollocazione del personale restante, è importante che a fronte della richiesta di personale espressa in piattaforma da parte di comuni ed altri enti pari a 197 posti, si riscontri in questi ultimi giorni una maggiore disponibilità da parte del personale delle province ad aderire all'offerta che presenta la piattaforma nazionale. L'Assemblea dei Soci della Banca del Vomano ha approvato oggi il suo primo bilancio operativo di esercizio e ha deliberato all'unanimità la nomina proposta dal Consiglio di Amministrazione del Cavaliere Ercole Cordivari come presidente onorario dell'Istituto. Nei suoi primi 12 mesi di attività la banca ha raccolto 19,1 milioni di euro, gli impieghi economici sul territorio ammontano a 12 milioni di euro, sono stati 765 i conti correnti accesi e il numero dei soci è salito a 1835. E c'è preoccupazione ad altri tra i 23 addetti alla Casa di Riposo Ricci Conti. La cooperativa sociale di Aversa che ha vinto la gara d'appalto ha infatti espresso la volontà di riassorbire solo 15 lavoratori. I dettagli nel servizio. Allarme e occupazione ad altri per i dipendenti della Casa di Riposo Ricci Conti. Una cooperativa sociale di Caserta ha vinto l'appalto ed ha annunciato la riduzione di otto unità lavorative. La cooperativa sociale Agora di Aversa ha vinto l'appalto per la gestione della Casa di Riposo Ricci Conti di Atri di proprietà della ASP 2 di Teramo e ha annunciato che vi è incompatibilità fra lo stato della commessa e la consistenza attuale dell'organico e che quindi verranno riassorbiti solo 15 dei 23 addetti attuali impiegati dalla Consorzio Futura fino ad oggi affidataria del servizio. Una proposta che è stata dichiarata irricevibile dai sindacati e dai lavoratori. Al tavolo delle relazioni industriali della provincia, Fabio Benintendi e Alberico Maccioni hanno dichiarato che risulta incomprensibile come possa farsi fronte a tale mole di servizi con un personale così limitato tenuto conto della natura stessa del lavoro. La vicenda assume una connotazione che va ben oltre le ragioni degli operatori. Il riferimento è al fatto che nella Casa di Riposo sono ospitati appunto circa 40 anziani, alcuni di questi particolarmente bisognosi di cure. Al tavolo delle relazioni industriali della provincia anche la cooperativa uscente, Consorzio Futura rappresentata da Gabriele Marcellini, che ha riferito che è stata avviata un'azione legale finalizzata a tutelare i propri interessi e che il ricorso pende innanzi al Consiglio di Stato. La provincia di Teramo, stante le posizioni molto distanti delle parti, ha proposto un differimento del subentro, previsto per il 20 maggio, e ha riconvocato le parti per lunedì 16 maggio alle 9.30. Per la cooperativa Agora ha partecipato all'incontro Costanzo Feo, che è il legale rappresentante. Per l'ennesima volta, ha detto il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, assistiamo ad un avvicendamento di gestione di servizi pubblici ad alto valore sociale con un taglio netto degli addetti. Due sono le cose, o sono sbagliate le gare d'appalto o sono sbagliati i conti. E abbiamo un doppio problema, prosegue Di Sabatino, quello occupazionale e la qualità dei servizi. Mi auguro che il lunedì vengano fugati i dubbi e le perplessità. In ogni caso la provincia di Teramo vigilerà, per garantire una corretta assistenza agli utenti anziani e la corretta applicazione dei capitolati d'appalto. E' partita la lotta agli sprechi d'acqua in 97 sorgenti che servono il territorio Teramano. Via libera a misuratori di rete da parte della Ruzzo Reti, su Gran Sasso e Monti della Laga. Sentiamo. La lotta allo spreco dell'acqua inizia dalla sorgente. Partiranno infatti nei prossimi giorni i lavori per l'installazione di misuratori nelle 97 sorgenti gestite dalla Ruzzo Reti S.P.A. e situate sul Gran Sasso e sui Monti della Laga. I misuratori consentiranno di verificare con puntualità i volumi di acqua prelevata dall'ambiente. Il progetto, riferisce la Ruzzo, è stato finanziato con fondi FAS per un importo di 1.465.000 euro. La ditta che si è aggiudicata all'appalto e la Benito Stirpe Costruzioni di Frosinone e i tempi di realizzazione sono stimati in un anno e mezzo. Prevista anche l'installazione di mille contatori presso utenze che fino ad ora ne erano sprovviste e sparse nei comuni dell'entroterra Teramano come Pietracamela, Centro Storico Intermesoli, Rocca Santa Maria, Raiano, Forno, Tevere, Fioli, Civitella del Tronto, Piano Risteccio e altre frazioni e in alcune zone periferiche del Comune di Campli. Solo in questa zona è prevista l'installazione di 580 contatori. Contemporaneamente saranno installati misuratori di portata nei depuratori per quantificare i volumi di acque reflue depurate e restituite all'ambiente. Nel caso dei contatori, spiega il presidente di Ruzzo S.P.A. Antonio Forlini, l'obiettivo è quello di avere un bilancio idrico affidabile e quindi promuovere un consumo responsabile dell'acqua e meno sprechi. Nel caso invece dei misuratori, beneficeremo anche in ossequio alla legge di un monitoraggio costante e preciso dei volumi di acqua prelevata dalle sorgenti e restituita all'ambiente dopo il processo di depurazione. Fine settimana pieno di iniziative a Teramo e stamattina ci sono state anche le prove generali del nuovo mercato del sabato con gli espositori senza i furgoni. Il servizio. Il grande viaggio Conad, la festa dell'energia e la nuova disposizione del mercato. Oggi il centro di Teramo si presenta ai Terramani sotto un'altra veste. Sì, il grande viaggio Conad è arrivato a Teramo siamo felici perché un brand importante come Conad con una presenza importante in città Conad crea occupazione, crea business e a Teramo con questa festa tutti in piazza Oggi e domani? Oggi e domani, stasera c'è il maestro Vessicchio con la sua orchestra, domani ci sarà Gene Gnocchi è una manifestazione che mette insieme buon cibo, sport, dibattito e quindi concerti, perché ci sarà un concerto stasera e un concerto anche domani sera e poi Promete, questa è stata la premiazione un progetto sull'energia, sulle fonti rinnovabili stamattina abbiamo premiato i bambini alla Sala San Carlo e adesso sono qui a fare dei giochi, a giocare con gli aquiloni i bambini portano sempre tantissima gioia A proposito di mercato, la riapertura di una parte del corso ha presentato il mercato settimanale anche in questo caso sotto un'altra veste Sì, abbiamo una nuova veste del mercato l'avevamo progettata così l'ufficio tecnico ci ha restituito una relazione nella quale la nuova, diciamo, il nuovo non era la nuova pavimentazione però il nuovo tratto del corso restituito non è carrabile quindi abbiamo già fatto il nuovo disegno con i banchi senza veicoli secondo me il mercato è più bello sicuramente a livello estetico ma è più fruibile, ci sono più spazi c'è più tutela della sicurezza anche perché i mezzi di soccorso possono passare quindi io credo che sarà quella poi la veste definitiva Prove generali Prove generali per la veste definitiva che sarà poi quella quando rifaremo la pavimentazione che sarà sicuramente carrabile ma come sappiamo l'amministrazione intende sicuramente tutelarla e quindi noi riporteremo i banchi del mercato del sabato sul corso ma su tutti i corsi su tutta la direttrice dei corsi senza veicoli e questa sera la ditta Solti inaugura la nuova gestione del Cineteatro Comunale di Teramo con uno spettacolo lirico d'eccezione e sarà proprio la lirica la protagonista principale del nuovo corso del Teatro Comunale sentiamo Con il gran galà dell'opera questa sera inizia la nuova gestione del Teatro Comunale di Teramo Eh sì, è una nuova gestione che speriamo apra di più ancora il teatro alla popolazione, ai teramani vorremmo fare tanta lirica che è nello spirito proprio della Solti che è iscritta all'albo delle imprese liriche da 30 anni e lavora in tutta Italia proprio nell'ambito della lirica e tutto ma ci daremo da fare anche per fare stagioni di concerti, stagioni di danza per le scuole, molte cose per le scuole e cercheremo di avvicinare il più possibile a tutti i livelli il Teatro dei Teramani E quello di questa sera sarà un vero e proprio gran galà dell'opera perché sul palcoscenico cosa vedremo? Allora, intanto ci saranno oltre 100 persone perché tra coro, orchestra, i cantanti si chiama gran galà appunto perché c'è un po' di tutto c'è quello che è l'essenza dell'opera lirica, dello spettacolo mancano solo le scene ma ci saranno le aree più belle dell'opera lirica italiana Anche un grande allestimento dal punto di vista scenografico? Eh certo, beh insomma sono tante persone dietro ci sarà il coro del Teatro Ventitio Basso un coro molto affermato che sta girando è venuto già qui altre volte per Manolo Escobar, Macbeth e l'orchestra Nuova Amadeus di Roma quindi sarà scenograficamente una cosa importante I dettagli di questa nuova gestione si inizia di fatto questa sera con questo gran galà, poi? Poi dall'anno prossimo, la stagione prossima cercheremo appunto di fare la stagione lirica il concorso lirico con annesso corso per i vincitori e uno spettacolo appunto per quelli avvicinando le scuole alle prove generali e molti studenti appunto a tutte quelle fasi di preparazione che sono le più importanti e forse riescono a avvicinare i giovani alla lirica dopodiché faremo concerti, musica etnica musica senza interferire con quanto fa la Riccitelli insomma faremo la stagione di prosa che organizza la Riccitelli stagione di danza e poi il cinema comunque faremo il cinema con le migliori prime visioni possibili il personale del comando stazione forestale di Cortino nell'ambito dell'attività di controllo del territorio all'interno del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha sorpreso in località Lame della comune di Cortino un cercatore di funghi intento nell'attività di raccolta in assenza del previsto tesserino al trasgressore è stata combinata una sanzione amministrativa oltre alla confisca dei funghi raccolti che sono stati successivamente consegnati al servizio micologia dell'ASL di Teramo e che verranno distrutti nel caso risultassero non commestibili il 21 maggio prossimo nell'aula magna dell'università degli studi di Teramo alla presenza del procuratore nazionale antimafia Roberti e del vice presidente del CSM Legnini sarà inaugurato il laboratorio giustizia Teramo promosso dalla procura di Teramo il servizio dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti al dottor Francesco Cananzi presidente della settima commissione del CSM passando per il sottosegretario la giustizia Federica Chiavaroli e con le conclusioni affidate al vice presidente del consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini è un parterre d'eccezione quello che sabato 21 maggio alle 9 nell'aula magna dell'università degli studi di Teramo inaugurerà l'avvio del laboratorio giustizia Teramo promosso dalla procura di Teramo in collaborazione con l'università all'ordine degli avvocati la scuola superiore della magistratura e con il primo appuntamento che vedrà la realizzazione di una tavola rotonda sul tema innoviamo insieme la giustizia scienza dell'organizzazione dirigenza prassi virtuose carichi sostenibili informatizzazione alla tavola rotonda moderata dal procuratore Antonio Guerriero parteciperanno oltre a Francesco Cananzi Franco Roberti e Federica Chiavaroli anche Paola Balducci componente del CSM il presidente della regione Luciano D'Alfonso il presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino Giancarlo Vecchi del Politecnico di Milano Alberto Zito della facoltà di giurisprudenza di Teramo Luisa Napolitano della scuola superiore della magistratura Luigi Catelli presidente di sezione della corte d'appello dell'Aquila Gian Saverio Cappa presidente di sezione del tribunale di Teramo ad introdurre la giornata dopo i saluti istituzionali da parte del rettore dell'università Luciano D'Amico del presidente della corte d'appello dell'Aquila Fabrizia Franca Bandera del presidente del tribunale di Teramo Giovanni Spinosa e del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi saranno il procuratore generale dell'Aquila Pietro Mennini il presidente di giurisprudenza Floriana Cursi il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo Guirino Ambrosini la dottoranda Federica Girinelli e il PM Laura Colica è una questione di ore la firma di Renzi sul masterplan dell'Abruzzo lo ha detto il presidente della regione Luciano D'Alfonso illustrando i progetti previsti dal documento per Pescara sentiamo abbiamo fatto i compiti a casa e firmeremo prestissimo il masterplan con il premier Renzi lo ha assicurato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso in apertura della conferenza stampa di presentazione degli investimenti inseriti nel masterplan relativi alla città di Pescara e al suo sistema urbano per il capoluogo adriatico il piano prevede oltre 100 milioni di euro che andranno a finanziare tra gli altri interventi porto, depuratore, area di risulta e prolungamento dell'asse attrezzato ci sono risorse per le aree di risulta finalmente in maniera tale che si abbassi l'attesa dalla finanza del privato quella che impegnò anche la mia amministrazione 12 milioni di euro per le aree di risulta a Pescara 15 milioni di euro per riportare a piena efficienza il porto di Pescara come hanno chiesto pescatori e operatori del mare e anche il comune di Pescara ci sono circa 20 milioni di euro per portare la ferrovia all'aeroporto di Pescara ci sono 10 milioni di euro per sistemare il tracciato ferroviario ulteriormente da Pescara a Chieti ci sono risorse finanziarie per aumentare le piste ciclabili ciclovie e cicloturismo a favore della città di Pescara ci sono risorse per completare la chiesa di Sant'Anna qui su Viale Bovio e per sistemare funzionalmente anche la cattedrale di San Cetteo come mi ha chiesto il Vescovo ci sono risorse per completare la città della musica e il museo del mare e poi risorse orizzontali su tutto l'Abruzzo quindi anche per Pescara per efficientare il sistema idrico della conduzione idrica al riparo e rassicurare la città di Pescara Sbagliata la procedura di valutazione comparativa indetta dalla regione Abruzzo per designare la nuova consigliera regionale di parità a segnalare quello che viene definito un errore nel richiamo alla normativa e che nel frattempo è cambiata è la consigliera uscente Letizia Marinelli che ha inviato una lettera al governatore Luciano D'Alfonso chiedendo l'annullamento della procedura illegittima a quanto pare, visti gli ostacoli che questa giunta regionale mi ha opposto nello svolgimento del mio lavoro sottolinea la Marinelli non ritengo abbiano intenzione di rinnovare il mio mandato mi è sembrato quindi importante segnalare che nell'avviso pubblico di selezione apparso nel Bura ordinario del 25 marzo 2016 numero 11 abbiano clamorosamente sbagliato il richiamo alla normativa e che nel frattempo si è modificata non ho intenzione di rimanere attaccata ad una poltrona commenta Marinelli in una nota che accompagna la lettera certificata che frutta scarsi 150 euro di indennità mensile ma ho la volontà e caparbietà di portare a termine i progetti per i quali ho tanto lavorato mi chiedo come mai questa giunta regionale non abbia viceverso provveduto tempestivamente alla nomina della nuova commissione regionale pari opportunità organismo politico al quale si applica lo spoil system che dunque sarebbe dovuto decadere già all'indomani della vittoria del centro-sinistra alle elezioni regionali e il consigliere del Movimento 5 Stelle Mercante attacca il presidente D'Alfonso perché la regione è stata bocciata ancora una volta dall'Unione Europea e chiede adesso chi paga bocciata ancora una volta la regione Abruzzo dall'Unione Europea e il consigliere Griglino Mercante dice chi paga la notizia dell'organizzazione dell'open days di Dubrovnik in concomitanza con un altro evento della commissione europea e per giunta senza che nessuno ne sapesse nulla è solo l'ultima delle figuracce collezionate dalla regione facile del presidente D'Alfonso l'affondo e di Riccardo Mercante consigliere regionale dei 5 Stelle una disattenzione così macroscopica che non fa altro che dimostrare l'incapacità di questo governo regionale nella gestione delle politiche comunitarie e che per di più rischia di costare molto caro all'Abruzzo e ora che ognuno si assuma le proprie responsabilità che la capacità di questa maggioranza prosegue Mercante di gestire le questioni europee fosse altamente deficitaria era cosa ben nota già lo scorso mese di settembre era arrivata la bocciatura da parte della commissione europea nei confronti della regione per le irregolarità riscontrate nella gestione dell'IPA un programma che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile della regione adriatica una vera e propria stangata che ha prodotto l'interruzione del programma stesso e che potrebbe comportare per l'Abruzzo l'obbligo di rimborsare di tasca propria gli altri paesi partecipanti e come se ciò non bastasse aggiunge Mercante pochi giorni fa la regione è riuscita a fare di peggio organizzare un evento in concomitanza con un forum dell'Unione Europea sugli stessi argomenti e all'insaputa della commissione europea una manifestazione di cui rimarrà a quale ricordo solo la foto di D'Alfonso e Monticelli sorridenti durante il loro viaggio a Dubrovnik l'ennesimo viaggio ma a spese di chi? chiede Mercante proprio per questo ha concluso il consigliere regionale di 5 Stelle ho ritenuto necessario che sia il presidente D'Alfonso a spiegare agli abruzzesi le ragioni di tale inefficienza e soprattutto perché la macro regione adriatica a lui tanto cara stia portando fino ad ora solo guai e nessun beneficio alla nostra regione e adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per domani in Abruzzo al mattino variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree montane poco nuvoloso sulle aree litorane e collinari nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia tra sera e notte nuvoloso con deboli piogge specie sui rilievi temperature stazionarie massime comprese tra 18 e 21 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 21 e 24 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli moderati settentrionali mare quasi calmo in provincia di Teramo al mattino parzialmente nuvoloso sulle aree montane sereno sulle aree litorane e collinari nel pomeriggio nuvoloso con deboli piogge specie sulle aree subappenniniche tra sera e notte nuvoloso con deboli piogge specie sulle zone marittime temperature in lieve diminuzione massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 20 e 23 gradi sulle coste venti deboli moderati settentrionali mare quasi calmo ed eccoci allo sport iniziamo con il calcio attraverso facebook l'oramai ex allenatore del teramo vincenzo vivarini e i suoi collaboratori antonio del fosco e fabrizio zambardi hanno salutato società tifosi e città questo il testo integrale pubblicato tante parole non sempre rendono interessanti i discorsi a volte poche parole racchiudono un profondo e sentito significato siamo riconoscenti per l'accoglienza che in queste tre stagioni la città di teramo ci ha riservato a noi e alle nostre famiglie un ringraziamento particolare va alla società teramo calcio nelle persone dei presidenti luciano campitelli ed ercole cimini che ci hanno permesso di lavorare nel migliore dei modi centrando degli obiettivi importanti e indelebili mettendoci a disposizione collaboratori specialisti sanitari e addetti logistici competenti professionisti e instancabili nel loro lavoro certamente un ricordo ottimo e quello occupato dai tifosi sia quelli quotidiani presenti sempre agli allenamenti sia quelli delle trasferte che hanno macinato chilometri e sfidato le intemperie sia quelli occasionali che quelli organizzati che ci hanno sempre sostenuto e hanno rappresentato per noi il bastone del nostro cammino ci teniamo a ringraziare la stampa e tutti i media che ci hanno accompagnato in questi tre anni e con i quali si è instaurato un rapporto di stima reciproca e rispetto infine ma nostro prioritario pensiero è il saluto a tutti i diavoli che hanno calcato il bonolis e che hanno condiviso con noi gioie e momenti bui ragazzi generosi umili disponibili bravi professionisti uomini lasciamo questi colori portandoli nel nostro cuore sperando che un domani le nostre strade possano rincontrarsi Ad Maiora Vincenzo Vivarini Antonio Del Fosco Fabrizio Zambardi e servirà almeno una settimana prima di capire chi sarà il nuovo allenatore del Teramo la società del presidente Campitelli vuole valutare tutti i profili disponibili sul mercato prima di affidare la panchina bianco-rossa rimasta vacante dopo l'addio di Vivarini al momento in corsa per ricoprire il ruolo di nuovo tecnico ci sono quattro nomi Fulvio Pea Giovanni Pagliari Gianmarco Remondina e Lamberto Zauli le candidature di Pea e Pagliari che inizialmente erano in pole position adesso sono in calo sono in rialzo invece le quotazioni di Remondina e Zauli che quest'anno con le loro squadre Carrarese e Sant'Arcangelo hanno impressionato in maniera positiva la dirigenza del Teramo Dedico questa doppietta al mio procuratore Libertazzi ma anche a Marcello Di Giuseppe ex direttore sportivo del Teramo poi inibito nell'ambito dell'inchiesta Dirti Soccer che mi ha portato in Abruzzo lo ha detto oggi al novantunesimo della gara vinta dal Pescara per 5 a 2 in casa del Modena Gianluca Lapadula l'attaccante pescarese che ha contribuito con i suoi gol al successo di oggi con le due reti segnate in terra emiliana l'attaccante degli abruzzesi si conferma sempre di più il bomber del campionato di Serie B con 26 reti senza aver calciato neppure un rigore il campionato di eccellenza abruzzese giunto alle battute finali domani pomeriggio il Pineto fa il suo esordio nella fase nazionale dei play-off nella gara di andata del primo turno gli uomini di Ammazzalorso sono impegnati in casa dello Sporting città di Fiumicino sul neutro di Morrodoro invece si gioca San Buceto-Montorio finale play-out che designerà l'ultima squadra retrocessa nella categoria inferiore il servizio a sette giorni dal successo ottenuto nella finale della fase regionale contro il Paterno il Pineto si appresta a fare il suo esordio e a rappresentare l'Abruzzo nella fase nazionale dei play-off di eccellenza in palio per le sette squadre che riusciranno a superare i due turni ad eliminazione diretta previsti dal regolamento c'è la promozione in Serie D e quindi un posto nel massimo campionato dilettantistico nazionale traguardo al quale mira appunto il Pineto l'undici di Ammazzalorso nel primo turno sarà opposto allo Sporting Città di Fiumicino domani alle ore 16 ci sarà la sfida di andata si gioca al Paglia Lunga di Fregene nell'impianto romano gli Adriatici dovranno fare a meno dei lungodegenti Logoluso, Guerra, Rachini e Desimone e dello squalificato Cattenari in attacco invece torna a disposizione Super Mario Horta la gara di ritorno ci sarà tra sette giorni il 22 maggio a Pineto chi vince passa il turno e andrà ad affrontare la vincente della doppia sfida tra gli Emiliani del Rolo e gli Umbri del Subasio gli appuntamenti per gli appassionati del calcio regionale comunque non finiscono qui nel weekend infatti è in programma anche l'ultimo atto dei play-out sarà lo stadio comunale di Morrodoro a ospitare la finale tra il San Buceto e il Montorio che in precedenza aveva superato la Torrese una sola delle due squadre avrà la possibilità di far parte del massimo campionato regionale nella prossima stagione i Viola partono con un leggero vantaggio dovuto al miglior piazzamento ottenuto in classifica durante la regular season e pertanto in caso di parità al termine dei 120 minuti 90 regolamentari più 30 supplementari potranno festeggiare la permanenza in categoria il Montorio dal canto suo se vorrà salvaguardare il suo record di unico club di tutta Italia ad aver partecipato a tutti i campionati di eccellenza dall'anno della sua istituzione ha invece un solo risultato a disposizione quello della vittoria la gara si annuncia equilibrata e come spesso accade in queste situazioni anche un solo episodio potrebbe fare la differenza e adesso passiamo al basket e ai playoff nazionali del campionato di serie C Silver dopo il prezioso successo raccolto sette giorni fa con Cerignola la Meta Teramo si prepara ad affrontare il secondo turno casalingo di fila domani al Palace Capriano alle 18 i biancorossi sfideranno il Pozzuoli su questa gara seguiamo un servizio la Meta Teramo deve affrontare un'altra gara casalinga di importanza capitale nella marcia che conduce verso la promozione in serie B dopo il successo ottenuto domenica scorsa contro Cerignola i biancorossi per la terza e ultima gara di andata dei playoff nazionali sfidano il forte Pozzuoli squadra che ha zero punti in classifica e che al Palace Capriano si giocherà alle residue speranze di rimanere in corsa per il salto di categoria Palantrani e soci si troveranno di fronte un quintetto carico e che ha assoluto bisogno di vincere la partita un quintetto che vanta numeri di tutto rispetto miglior attacco del girone campano con una media di 88 punti realizzati a partita e miglior difesa dell'intera serie C con appena 50 punti subiti a partita una compagine che può contare sull'esperto playmaker Aprea e su due stranieri molto pericolosi come il tiratore Pekic e l'americano Lewis Teramo quindi dovrà offrire un'altra prestazione di assoluto livello se vorrà strappare l'intera posta in palio e confermarsi al secondo posto nella gradatoria generale sugli spalti ad assistere all'incontro ci sarà Mario Boni indimenticato giocatore bianco-rosso dal 2002 al 2004 con 78 gare disputate e 2017 punti segnati una promozione dalla 2 alla 1 per lui in bianco-rosso e un ottimo campionato condito con la salvezza nel primo storico anno nella massima serie Mario Boni ora è vicepresidente Giba l'associazione che tutela i giocatori di basket preseduta da Alessandro Marzoni per i tifosi teramani non solo quelli più nostalgici sarà quindi l'occasione per riabbracciare un vecchio idolo oggi e domani al Palamagetti di Roseto degli Abruzzi si svolgono le finali del campionato italiano di basket per disabili la manifestazione è organizzata dall'associazione Dimensione Volontario in collaborazione con il Roseto Sharks due le categorie in gara a livello base e pre-agonistico nel campionato di serie B di tennis questo weekend è in programma l'ultimo turno del girone di andata il circolo tennis Costante Bernardini di Teramo e di scena in trasferta a Padova sul campo del tennis San Paolo le gare si svolgeranno domani a partire dalle 10 i ragazzi del presidente Cardisciani devono conquistare un risultato positivo per mantenere a distanza di sicurezza la zona play out e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata e buona domenica Grazie a tutti